Io soy Maria, de Buenos Aires, de Buenos Aires soy yo. Sa fare molto bene gli spaghetti, Milva della normalità e di una simpatia estrema, con la quale veramente si può parlare di tutto. Ma chi me se sa qualcosa, ma non parlo no? E vedegi. La bella rossa dammi l'allegria e la rossa continuò a cantar. Vai, 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 canta bella rossa. Grazie a tutti.